Eccoci qua, via Dania, dentro Dania, c'è Maria Sole che fa i vlog OLEEEE, ma eccola uno ombre In realtà Gianluca è il manager di Esmeralda e quindi è qui SIIIIII PANTELA Buongiorno, un saluto Panteliano a tutti Per far mangiare nuove generazioni, Luca va Pregnere qualcosa di figo quando mi viene in mente niente, fa niente Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri bella figa Ma bella Gianluca Tanti auguri a te, ma sei bordo a pompe per un ciro calabrese ombre Tanti auguri per i tuoi 18 anni ombre È vero Adesso puoi far la patente Guarda quanti bei fiori Puoi ubriacarti, puoi fare tutto, adesso che hai 18 anni Eh come no, altro che, che lo favo? Ma che ha portato proprio il vino Sì ombre ci vuole provare con te Ma che bella pianta Guarda che belli Ombre cioè, guarda, guarda che bel ragazzo e che bei regali Guarda che belli Si sta candidando per diventare mio nonno Uno Soffia forte Due Tre OLEEEE, ma che ancora uno ombre EEEE EEEE Brava Ombre Muri Una notizia importante da darvi Importantissima ragazzi perché Paolo ci ha affidato il programma avanti un altro Grazie mille Adesso partirà per una vacanza Chiuderà tra una settimana probabilmente con la nostra guida Si noi portiamo benissimo però Noi ci impegneremo al massimo Grazie Paolo per la venire Così la fa Adesso ti devi andare a buttare lo vento tutto Ecco Ecco così Adesso ti amo fermo così Ragazzi Mo' spacchiamo la bottiglia Aspetta Tenetri Tenetri Siamo qua da stamattina nel centro Siamo quasi Tipo Oooooooo Ooooooooooo Ooooooooooooo Hai visto? Queste braccia contadine ragazzi Uomini Te le mangi qui Sentite queste mani che vi sculacciano Fai, fai sentire lo schiocco Sente Eeeeee Chiazzano Cara madonna Aiutare nell'orecchio Buongiorno Le location più belle del mondo sono solo a Varese Varese Riflesso dietro di te madonna che roba Aspetta che faccio Che roba incredibile ragazzi che riprese Iacopo si gira verso il sole Ragazzi stiamo registrando i nuovi mini video Con ospiti speciali C'è Esmeralda Notizia incredibile Incredibile però Sono filtrati a davanti un'an Anche a davanti un'an Siamo qui Paolo perché siamo venuti da davanti un'an Per mandarti un messaggio da parte C'è nostra nonna che è una star del web Una tua grande fan E quindi ti ha mandato un messaggio Un messaggio molto intimo e personale per te E' molto personale quindi te lo mostriamo Esatto Ciao Paolo Sono una tua fan Ti sei usa quando facevi bim bum bam I miei nipoti ti hanno portato un regalo da parte via Spero che ti piaccia Salutami Laurenti Un saluto Pantigliano a tutti Ciao 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 Qual è il regalo? Ah il regalo della nonna? Certo E' per lui E' per lui E' per lui E' per lui E chiede se puoi fare un contografo La firmettina È a second tempo Paolo Anche del maestro Laurenti No, ma è personale per lui Devo firmare le mutande della nonna? La nonna preferisce davanti o dietro? Magari Laurenti dietro Allora, Laurenti dietro e io davanti Siamo bene, bello Nonna devo dire che è particolarmente sexy Sì, c'è qualcosa Io da quando ho visto quelle mutande Una volta che firmo un par di chiappe Sì, infatti ho già parlato con mia moglie E gliel'ho detto, insomma Ci sono delle cose a cui un uomo non può resistere Quindi possiamo chiamarti nonna? Purché voi non siate nipoti Bravi Pantellas! Grazie mille Mi raccomando, aspetta Saludate nonna Ecco qua Ancora mi ha fatto vampipino qua Ma me la diamo un'altra mentre faccio Ma tanto è davanti Scusa Bruna Ah, ah, piacere Grazie Vabbè, grazie Grazie, grazie figlioli Ma che figura Prego I Pantellas Bella pupetta Bella pupetta Bella pupetta Noi ringraziamo un po', ringraziamo avanti un altro Io ringrazio Pantellas per aver partecipato Eh, ci richiamerai Ma certo che no Un saluto Pantelliano a tutti Fa mangiare nuove generazioni e tocca va Viene donne, campagna acquisti Pantellas Via Daniel, dentro Daniel L'ho seguito di Jacopo con Francesco Ma come? Vieni lì Ma no Sempre noi due alla fine L'abbraccio Andiamo, andiamo Andiamo È un momento incredibile Jacopo sta per stappare Vorrei dire qualcosa di figo Ma non mi viene in mente niente E fa niente Eh, attenzione Lei ci vuole denunciare Assassino Guarda, tutto per terra Animale Pantellas Oh, auguri Auguri di una lunga Vita Se ce la fate Ciao ragazzi Sono i Pantellas E questo era una vita da Pantellas Se questo format vi è piaciuto Mettete un pollice in su Perché ragazzi Fatecilo sapere Perché sono vlog E cose diverse dal solito Ma se vi piacciono Spolliciate Arriviamo a 100.000 like Per un nuovo episodio Ah ragazzi La nonna ha risposto alle vostre domande Che ci avete fatto su Instagram Per poter vedere il video Scaricate Wow Trovate il link in descrizione Mi raccomando Andate a vedere le risposte della nonna E noi ci vediamo prestissimo Con tanti nuovi video E se volete sapere Come è andata a finire La ship Nonnazi Non perdete il prossimo episodio Di Una vita da Pantellas Eee Un saluto Pantelliano a tutti Se tenete a questo punto Nel video Commentate con Nonnazi forever È vero Un saluto Pantelliano a tutti